Nonostante il turno di riposo, la Vigor Sangataldo riesce a mantenere la quarta posizione in classifica in coabitazione con la Vigor Italia, che esce sconfitta per 5-4 sul campo della Retusa 94. Vigor che tornerà in campo sabato 11 novembre in casa dello Sporting Scicli. Calcio a 5, Serie C1, Girone B, i risultati della settima giornata. A Gireale Real Palazzolo 6-3. A Retusa 94, Vigor Italia 5-4. Carlentini, città di Leonforte 10-5. Fuzz al Ferla, via Grande 7-0. La Madonnina Sporting Scicli 2-7. Montalbano, Sicilgrassi 5-6. Riposa, Vigor Sangataldo. La classifica. A Cireale 18. Fuzz al Ferla e Sicilgrassi 16. Vigor San Gataldo, Vigor Italia e Carlentini 12. Sporting Scicli e Via Grande 7. Città di Leonforte e Aretusa 94-6. Montalbano, Real Palazzolo e La Madonnina 3. Nel campionato di Serie C2, il Caltanissetta Soccer, dopo 5 sconvitte consecutive, riesce a trovare la prima vittoria stagionale in campionato. La formazione nissena esce vittoriosa per 4-6 dalla trasferta di Acireale, conquistando i primi tre punti stagionali e facendo un bel salto in classifica, lasciando l'ultimo posto. Per il Caltanissetta Soccer sono andati a segno Lauricella per ben tre volte, Mosca, Tunte e Grillo. Calcio a 5, Serie C2, Girone C, i risultati della sesta giornata. Agrigento Fuzz al San Nicolò 3-3. Next Level Pedara 2-3. Nicosia Fuzz al Arcobaleno 7-6. Fulgentissima Polisportiva Nicosia 4-7. Argyrium, Città di Canicattì 3-5. Fuzz al Acireale, Caltanissetta Soccer 4-6. La classifica. Città di Canicattì 16. San Nicolò 14. Argyrium 13. Pedara e Polisportiva Nicosia 12. Arcobaleno 11. Nicosia Fuzz al 10. Next Level 7. Caltanissetta Soccer 3. Agrigento Fuzz al 2. Chiudono a un punto, Fuzz al Acireale e Fulgentissima.